E anche oggi cominciamo insieme Cominciamo in pole position, siete a bordo di questa vettura vincente che parte in prima fila ma perché vincenti sono gli ospiti che sono a bordo con noi e quest'oggi parliamo di turismo, parliamo di un territorio sempre molto amato che è Rimini, Misano Adriatico in particolare e lo facciamo con l'hotel Eden e col signor Andrea Porti, buongiorno Buongiorno, grazie per il vincente Buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando Grazie, vincenti, perché questa è la mentalità sua e che la contraddistingue come tanti nostri altri ospiti Lei fa l'albergatore da quanto tempo? Io ho lavorato nel turismo assieme ai miei genitori Luisa e Giorgio già circa 27 anni poi abbiamo preso, però facevo, lavoravo nell'ambito, avevamo un bar Però sempre nel turismo diciamo Poi da 27 anni, per 5 anni, ho avuto due alberghe cattoliche e poi nel 2005 finalmente hotel Eden www.hoteledenmizano.com a Misano Che tipo di hotel è? L'hotel Eden, nel 2005, dicevo, quindi 10 anni fa, abbiamo deciso di comprarlo assieme a mia cugina Patrizia e a suo marito Franco Era un albergo con una discreta clientela, c'era una buona clientela, però era molto vecchio 20 camere senza balcone, 6 camere senza bagno, col bagno nel corridoio 4 camere senza bidet, quindi abbiamo completamente ristrutturato in questi anni Oggi abbiamo delle camere moderne, abbiamo delle camere con dei bagni moderni, con box doccia, servizi sospesi Abbiamo il phone, abbiamo il bivet, abbiamo tutte le camere con balconi, un po' più grandi, un po' più piccoli Abbiamo le camere che è una cosa molto importante, a parte l'arredamento che è moderno anche quello, c'è la cassaforte eccetera Il wifi e abbiamo l'aria condizionata, un'esigenza che in questo periodo è molto sentita E questi servizi più elencati assieme al parcheggio custoditi sono gratuiti, cioè non gratis ma sono dei servizi che diamo complessi nel prezzo Siamo un due stelle, potenzialmente possiamo diventare un tre stelle, basta fare la domandina Ma abbiamo deciso di rimanere per almeno ancora un po' di anni un due stelle Un due stelle, quindi un buon rapporto qualità-prezzo Direi di sì, questo è il motivo principale, non vorremmo alzare troppo il prezzo per perdere i nostri amati clienti Insomma, abbiamo una clientela molto fidelizzata Ecco, a questo proposito il target dell'Hotel Eden? Il target dell'Hotel Eden sono le famiglie Noi ci rivolgiamo tendenzialmente alle famiglie italiane ma anche estere Parliamo della Svizzera, della Germania, dell'Austria, della Francia Sono le famiglie perché Misano è una realtà adatta, è un paesino, un paese adatto alle famiglie Ecco, parliamo di questo, di dov'è situato l'Hotel, Misano Adriatico? L'Hotel Eden è situato appunto a Misano Adriatico ed è una cittadina molto molto carina con molto verde e molte zone pedonali In questa zona, nei parchi di Misano Adriatico, varie volte alla settimana vengono organizzate durante la sera delle feste dove si canta dal vivo E quindi c'è la possibilità di ballare C'è la possibilità di ballare, c'è la possibilità, a Misano però non facciamo solo questo C'è la Matte Rosa, ci sono molte manifestazioni legate al turismo, legate alla pallamano C'è il circuito, il Misano World Circuit Marco Simoncelli Marco Simoncelli E chi non conosce la MotoGP che c'è a settembre, la Superbike Volevo dire... Ecco, Porti, siamo un attimo fuori tempo Però prima di chiudere con questo Un'ultima battuta, non so se era quello che stava per dire So che lei è presidente di Misano Vacanze, un consorzio Incredibile, era questo che stavo per dire E quindi sono presidente di un consorzio che si chiama Misano Vacanze E in questo consorzio noi siamo un gruppo di alberghi Che cerchiamo di dare qualcosa di più ai nostri clienti Quindi organizziamo delle serate speciali La camminata sotto le stelle, il nordic walking, delle feste molto belle L'anno scorso le abbiamo fatte in una villa vicino ai nostri alberghi Dove c'era un grande spettacolo, c'era la possibilità di assaggiare prodotti gastronomici C'era tanto divertimento Quindi io dico, se venite a Misano, è una bella cittadina Se venite a Misano andate a vedere il sito www.misanovacanze.it Ci sono io assieme ai miei colleghi .com, sbaglio forse? .com, www.misanovacanze.com E se venite andate a vedere il sito Poi se volete scegliere me, perché no? Hotel Eden, una vacanza in paradiso a 100 metri dal mare Ecco, uno slogan bello anche, grazie, va bene Allora, grazie ad Andrea Porti, grazie per essere stato con noi Hotel Eden di Misano Adriatico E domani mattina saremo ancora in questa zona, in questo territorio Sicuramente in Emilia Romagna Cominceremo ancora una giornata in Polpoviscio Grazie a tutti Grazie a tutti